Presentazione di MSC World Europa, la nave più ecosostenibile della flotta MSC, nuova ammiraglia in arrivo a novembre 2022. Oggi abbiamo una visione veramente unica, solo nei cantieri e purtroppo, unicamente quando vi appaia il dry dock, possiamo vedere la nave così da sotto nella sua magnificenza. Navi da oltre 200.000 tonnellate, 6.700 ospiti, oltre 2.000 versioni di equipaggio, ma quello che mi piace sottolineare di questa nave è la nave in assoluto, tra le navi attualmente in giro nel pianeta, più ecosostenibile in termini di pronta footprint di emissioni. Quindi siamo orgogliosissimi, felicissimi di presentarvi in assoluta anteprima MSC World Europa. Grazie a Leonardo Massa.